Mi sapete dire come quando si muove? Lani, ognuno di noi è come una goccia d'acqua. Che prima o poi cadono il muro e quando questa goccia si scioglie quell'acqua diventa mare. Lani, ognuno di noi è come una goccia d'acqua. Lani, ognuno di noi è come una goccia d'acqua. Lani, ognuno di noi è come una goccia d'acqua. Lani, ognuno di noi è come una goccia d'acqua. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.